Ma sta luce divina? Che manco duccio? Apri tutto? Boh, ce la teniamo? Cerchiamo di fare qualcosa, proviamo, facciamo delle prof. Meglio? Non meglio? Chi può dirlo? No, è terrificante. Ci spostiamo, ci spostiamo. Qua mi sembra di essere in un'Apple Store. Ah! Ma voi li sentite sti bambini che urlano? Cioè sembra che li stanno squarciando vini. Ok, scelto. Definitivamente qua. Bello, ci piace. Io non capisco sti bambini, ma... Quindi, oggi parliamo di segni zodiacali. Allora, so che molti non ci credono, molti ne considerano delle cose stupide. E... chi se ne frega, non è questo il punto. Perché alla fine è una cosa divertente e secondo me potrebbe essere divertente vedere se i film che vi consiglio effettivamente vi piacciono. Perché in quel caso dovrete diventare degli ossessionati dello zodiaco. Per ogni segno zodiacale assegnerò un film che dovrebbe essere in linea con quelle che sono le caratteristiche del segno. Ma, in realtà, chi è esperto di segni zodiacali, come la sottoscritta, sa bene che a contare non è tanto il segno zodiacale, quindi il vostro segno di sole, ma il vostro intero tema natale. Quindi, io metto le mani avanti. Se non vi ritrovate in queste descrizioni, molto probabilmente perché avete la luna da qualche parte, l'ascendente in un altro, e insomma, e tutti gli altri pianeti in altre posizioni. Se non sapete di cosa sto parlando, cercate su Google. Quindi, partiamo subito. Ariete! I nostri amici impulsivi e molto coraggiosi. Gli Ariete sono quelli che sbroccano, che sbroccano male. C'è un'incazzo facile, quindi sono amanti dell'azione. E per questo ho scelto per voi Mad Max Fury Road. Un cult, ormai, secondo me. Non è molto semplice. Delle persone devono arrivare da un punto ad un altro. Il punto è come ci arrivano. Infatti, si tratta di, appunto, un film action che ha come protagonista Max, interpretato da... Oddio! Oddio, come si chiama? Non mi viene in mente! Oh no, mi viene Edrian Brody, ma che cazzo c'entra lui? Stavo cercando su Google Edrian Brody, io sono veramente fusa. Tom Hardy! Come ho potuto dimenticare? Vabbè, comunque. Max è interpretato da Tom Hardy, mentre Furiosa è interpretata da Charlize Theron. E insomma, i due, secondo me, reggono benissimo il film, anche da soli. Però c'è da dire che è uno di quei film che veramente ogni comparto è perfetto. In particolare il montaggio, che tra l'altro, se non sbaglio, aveva vinto gli Oscar come miglior montaggio. Insomma, se volete azione, scazzottate. Ma comunque è un film che ha un messaggio molto politico ed è fatto veramente bene. Mad Max. Fa per voi. Passiamo poi al Toro. Il Toro, molto testardo, geloso, dedito alla famiglia e amante del cibo. I Toro mi stanno simpatici solitamente. Per voi, amici del Toro, ho selezionato il lato positivo. Perché è, se vogliamo, anche una storia familiare, si parla anche di famiglia. C'è la storia d'amore che potrebbe interessarvi. C'è anche un pelo di gelosia in questa storia d'amore. Quindi, secondo me siete lì. I protagonisti sono... Anche qua no, i nomi no. Bradley Cooper è Jennifer Lawrence. Jennifer ha pure vinto l'Oscar per l'interpretazione di questo personaggio che, se non sbaglio, si chiama Tiffany nel film. E niente, racconta la storia di questo tizio che ha sbroccato male, come gli amici della riete. E niente, insomma, ha scoperto di avere un disturbo bipolare. E questa cosa, insomma, l'ha portato, dopo la terapia, dopo essersi, insomma, ripreso un pochino, a cercare il lato positivo di tutte le cose. E l'incontro con Tiffany sarà un motivo in più per cercare di migliorarsi. Insomma, è un film molto carino, a mio parere. A me piace molto il lato positivo. So che ad alcuni fa schifo. Però non lo so, a me piace sempre molto il rapporto tra queste due persone. Che fanno molta difficoltà di integrarsi con gli altri, perché, insomma, anche Tiffany ha subito dei traumi non indifferenti. E quindi insieme riescono un po' a trovare un loro equilibrio. Secondo me, a Itoro potrebbe piacere questo film. Passiamo poi ai gemelli, gli eterni indecisi, un po' ribelli, sono solitamente molto estroversi, un po' estrosi. E infatti per voi ho scelto un film veramente esagerato, ovvero Mamma Mia. Ce ne sono due, secondo me potete vederli entrambi, però partite dal primo se non l'avete mai visto. Mamma Mia è un musical che racconta appunto la storia di questa ragazza che sta innamorata di questo tizio di recente e decide di sposarsi. Organizza il matrimonio e siccome lei non sa chi sia suo padre, leggendo i diari della madre scopre che ci sono tre persone che potrebbero essere, insomma, il suo padre biologico. E allora li contatta tutti quanti e quindi questi tre ex della mamma si presentano in questo stilo dove devono fare sto matrimonio e succede un bordello. Un bordello. Intervallato ovviamente da canzoni e balletti. Tra l'altro colonna sonora degli ABBA, una chicca. C'è Meryl Streep, poi cosa, Amanda Seyfried, non so come si dice il suo cognome. Nel secondo c'è pure Cher. Ah? Ah? Che ve lo dico a fare. Insomma, un film veramente esagerato, super divertente, molto anche colorato e proprio esplosivo mi viene da dire. Adatto a voi gemelli che siete un po' così, un po' estrosi. Passiamo al cancro, i tatoni del cancro. Gli empatici, gli empatici dello zodiaco, però anche un po' lunatici e un po' pigri. E per questa ragione, miei cari amici del cancro, a voi ho assegnato Up. Up perché è un film adorabile e rispecchia secondo me molto bene il vostro essere dei piccoli curricini tatosi. Emotivi, un po' sentimentali, un po' legate alle piccole cose. Infatti, vabbè, Up, sapete tutti di cosa parla Up, però nel caso non l'abbiate mai visto. Questo è un film della Pixar, appunto racconta di questo signore anziano che ha perso la moglie, di cui però era stra-innamorato e con cui aveva fatto questa sorta di patto, per cui dovevano andare insieme a visitare, cos'è, Monte Paradiso, non mi ricordo precisamente. Vabbè, dovevano fare questo viaggio. Allora lui cosa fa? Decise di comprare 200 milioni giga mega di palloncini, fa alzare in volo la casa e la porta in questo posto dove doveva andare con la moglie. Adorabile, adorabile. Passiamo poi al leone, le dive. Amano stare al centro dell'attenzione, vogliono attenzione in continuazione, cioè vogliono sentirsi amati, ammirati, vogliono che andate lì e gli dite tu sei la persona migliore del mondo. E anche loro sono un po' esplosivi, cioè nel senso sono molto focosi, un po' come l'ariete, però meno rispetto all'ariete che è un po' sbarella l'ariete. Quindi per il leone io ho selezionato Burlesque, perché secondo me è un film molto woo, molto da diva, perché appunto racconta di Cristina Aguilera, che si ritrova a dover fare l'audizione per fare appunto questi spettacoli burlesque in questo locale di Los Angeles e insomma diventa super faiga, grazie a lei il locale va benissimo e tutte queste cose. Tra l'altro rimorchia anche Volcek di O.C. Cioè l'ho scelto proprio perché c'è questo mood molto da diva, soprattutto nei numeri che loro fanno a questo locale, perché ovviamente ci sono anche gli spettacoli, cioè vedete gli spettacoli. Non è propriamente un musical, però è un film musicale, diciamo così. Ah, anche qui c'è Cher, quindi dovete vederlo. Passiamo alla Vergine. I pignoli, i precisini. Loro sanno sempre tutto, hanno sempre ragione su tutto. Potete fidarvi di una Vergine quando vi dice che ha fatto un piano meticoloso e preciso. Quindi per, insomma, assecondare questo vostro bisogno di controllo ossessivo sulle cose, chi meglio di Wes Anderson? Infatti qualunque film secondo me di Wes Anderson potrebbe piacervi, tranne il suo primo film, ovvero Battle Rocket, perché non è perfettamente simmetrico come tutti gli altri. Però se andate già un po' oltre i Tenenbaum, per non parlare di Gran Budapest Hotel, cioè veramente gli amici della Vergine stanno lì che piangono per la gioia. Ma che davvero? Ma questi? Ma li sentite? Urlano. Pazzi, scellerati, siete tutti degli ariete. Passiamo poi alla bilancia. La bilancia è uno di quei segni calmi, tranquilli, apparentemente. Sempre molto sorridenti, non amano i conflitti, amanti delle cose belle. Insomma, la bilancia è proprio un bel segno, a mio parere. Mi ci trovo sempre molto bene. E per gli amici della bilancia io ho scelto Marie Antoinette, perché è proprio un film bello, bello da vedere, estetically pleasing, che secondo me può piacere molto agli amici della bilancia, che appunto amano queste cose molto... Perfetta descrizione, una cosa... Ok. Marie Antoinette, come da titolo, parla di Marie Antoinette. Non so se voi siete gli amanti di Sofia Coppola, io particolarmente, ma adoro la sua versione di Marie Antoinette, perché è appunto un film in costume, ma ci sono un sacco di elementi della modernità. Infatti è famosa l'inquadratura delle converse vicino, insomma, alle scarpe d'epoca. Poi passiamo allo scorpione. Lo scorpione è il segno più odiato dello zodiaco, solitamente. Perché, insomma, diciamoci, gli scorpioni sono un po'... Un po' edgy. Sono molto gelosi, molto possessivi. Poi spesso tendono a mettere di zenzia tra le persone. Però allo stesso tempo sono molto sensuali, molto passionali. Sono un po' zozzetti gli scorpioni. Però devo dire che in quanto capricorno io di solito vado molto d'accordo con gli scorpioni, perché condividiamo lo stesso amore per il sarcasmo e l'odio nei confronti dei sentimenti. Per gli amici dello scorpione ho selezionato ben due film, attenzione. Uno è Chicago, anche qua un musical, scusate, però io adoro musical. Perché secondo me incarna molto bene... No, il mood dello scorpione. Questo mood un po' da femme fatale, che tra l'altro è super presente all'interno del film, dato che Roxy, la protagonista, interpretata da René Zellweger, si trova in carcere per aver ucciso l'amante. Tra l'altro fa di tutto per non far scoprire il fatto che fosse il suo amante, ma insomma ci sono un sacco di macchinazioni. E secondo me è il film perfetto per gli scorpione. Non perché voi siate macchinosi, ma perché secondo me vi piacciono sta roba. E poi ho scelto anche Amore e altri rimedi, perché secondo me è un po' quello a cui aspirano gli scorpioni. Cioè voi siete così sensuali, amanti delle cose un po' zozzette, come direbbe Barbixanax. Però in fondo sperate di trovare l'amore. E secondo me Amore e altri rimedi è perfetto. Jake Gyllenhaal, anzi Gyllenhaal e Dan Hathaway, che insomma iniziano questo rapporto prima solo fisico, è molto intenso e poi finalmente capiscono che c'è qualcosa di più. Passiamo poi al Sagittario. Sagittario, i pazzerelli, i pazzerelli dello zodiaco. Sagittario sono quelli che si svegliano la mattina, fanno colazione e poi vengono a dire, sai cosa, ho deciso che me ne vado in Perù per due mesi, forse ci vediamo. Poi torna, non fanno altro che parlarti del loro viaggio in Perù e come li abbia cambiati a livello metafisico, per poi due giorni dopo ripartire per la Cina. Così, perché se la sentivano. Quindi per andare incontro a questo animo un po' pazzerello, un po' amante dei viaggi improvvisati, diciamo così, per voi del Sagittario io propongo Into the Wild, perché insomma solo un Sagittario potrebbe mollare tutto, bruciare i suoi soldi e vivere nei boschi. Passiamo ai Capricorni, i miei cari amici Capricorno. Noi siamo freddi, sarcastici, ci piacciono i sordi e siamo ossessionati con il lavoro, cioè letteralmente ossessionati con il lavoro. Capricorns get shit done. Ci piacciono insomma le cose eleganti, insomma siamo un po' bodaioli anche, non io in questo momento sicuramente, però in generale lo siamo e quindi secondo me il connubio perfetto di queste due cose è Il Diavolo Veste Prada. Miranda Priestley è un capo cattivone, mentre Andrea è l'assistente all'inizio un po' sfigatella, ma che poi dimostra di essere la più figa di tutti. Anne Hathaway, Meryl Streep insieme sono una bomba pazzesca, per non parlare di Emily Blunt, che qui interpreta un personaggio che mi fa morire dal ridere. E insomma abbiamo un po' l'ossessione per il lavoro con Miranda che vive solo per lavorare e anche la moda, perché insomma parliamo di Runway, la rivista di moda più cool del pianeta. Quindi insomma amici del Capricorno, se non vi piace Il Diavolo Veste Prada, c'è qualche problema. Passiamo poi all'acquario, i nostri artisti. Gli acquario amano le cose particolari, spesso vengono definiti come gli strambi dello zodiaco. Proprio per il loro modo un po' strano di approcciarsi alle persone e per le loro manie, ossessioni su cose che dici boh. Quindi vista la vostra vena artistica e il vostro amore per le cose particolari, ho selezionato per voi uno dei film più strambi che io abbia mai visto, ovvero Velvet Budsow, che penso si dica così, non ne ho idea, con Jake Gyllenhaal. Sì lo so, è strano dirlo così, ma ho scoperto che si pronuncia così. Chiedete a Google. Infatti qui il nostro Jake interpreta un critico d'arte, che però si ritrova immerso in queste situazioni surreali, dove c'è del sangue e delle cose proprio strane, strane strane, che secondo me agli amici dell'acquario potrebbero piacere alquanto. Molti hanno letto questo film come una critica, alla critica d'arte e in generale al mondo dell'arte che diventa sempre di più un mercato vero e proprio. Non lo so, io l'ho trovato semplicemente un film molto strambo, però interessante comunque, molto originale. E concludiamo, concludiamo con gli amici pesci. Romantici e ipersensibili i pesci. Vedono profondità in qualunque roba. Infatti a mio parere sono la definizione del modo di dire is not that deep, ovvero non è così profondo. Che è la frase che vi ritroverete a dire al vostro amico pesci quando finite la visione di Transformers, lui cercherà di convincervi del fatto che in realtà sia tutta una metafora dell'amore che vince su ogni cosa. E quindi, dato il vostro animo romantico, la vostra voglia di vedere profondità e concettualismo ovunque, ho selezionato per voi due film. Il primo è Le pagine della nostra vita, che è secondo me il film romantico per eccellenza, in cui c'è questa storia d'amore che si trascina per anni e anni e che sembra che vada male, ma poi va bene, insomma, quelle robe nostruggenti. E poi Her, con il nostro Gioacchino Fenice, che appunto anche questo è un film molto romantico, che parla dell'amore e della vita in un modo molto originale e che appunto si apre anche a delle letture molto più profonde sulla società. Quindi, amici pesci, voi siete a posto. Questi due film vi piacciono per forza. E quindi, niente, io ho finito la mia carrellata di film associati ai segni zodiacali. Fatemi sapere qui sotto quale segno siete, se vi rispecchiate nelle caratteristiche che vi ho pioppato e soprattutto se vi piacciono i film che ho nominato. E niente, io spero che questo video possa essere stato divertente, spero soprattutto di avervi consigliato dei film che possano piacervi, a prescindere dai segni zodiacali, cioè nel senso se siete dello scorpione e volete vedervi il film dei pesci, va bene lo stesso. Come al solito qui sotto nell'info box trovate tutti i link per seguirmi sui social, la mia collaborazione con Pampling e tutte le informazioni del caso. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!